centro salve a tutti lei è la serena azzurra che si è gentilmente prestata per fare un tutorial sul viso allungato fa vedere il cartello del viso allungato l'ho fatto vedere prima è stato così il tutorial me lo dico prima allora iniziamo il viso allungato allora iniziamo con i correttori che ho perso eccolo allora questo qui è suo è della Make Up For Ever la versione ingrandita del mio verde piccolino bellino tesorino vedete figliolo allora questo qui è molto più liquido vai vai faccio vedere cioè è liquidissimo è liquido quanto un liquido allora si può applicare su innumerevoli brumi allora due e tre un po' qua si le guanci ce l'ho rossissime sempre e un po' qua e sento una donna disorganizzata non l'avevo preparato poi si prende l'ombretto arancione della Kiko perché momentaneamente non ho il correttore arancione prima o poi lo compro magari quando arriveranno un po' di soldi natale poi prendo il correttore color carne che mi è parte sul tappo e non lo ritrovo della Maybelline numero 21 e ci passo anche sopra dove ho messo prima il correttore arancio e il correttore verde voglio non lasciare delle patacche colorate in giro per il viso chiaro che fanno male questi scusa e come vedete è già un po' migliorata si non fanno miracoli però che stronza che so allora questa è la vera la mia vanta no quella quella bella cucciolina allora poi si applica la crema si uniforma tutto io uso questa qui della Kiko che è come si dice è opacizzante che è accaduta in terra più che altro appena pulita la camera tra l'altro che è opacizzante mi hanno detto anche anti-age che non so perché me l'hanno voluta vendere come se fosse anche c'è anche perché anti-age si mette tutta per bene sul dolce visino allungato della serie guarda vedi allungato che è successo qualcosa al computer scappato un antivirus aggiornamento dell'antivirus non so se vi interessa allora non te la tocco se non la mettiamo a mazza perché c'è la zia che fa la barrucchiera e lei come potete vedere siamo tutti pazzi in famiglia se si continua così non si entrerà mai in un quarto d'ora di video si 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 allora poi prendiamo il fondotinta grazie questo è il suo della Dior color 030 è preparatissima la ragazza fattore di protezione 10 anche poi si prende una spugnetta e fa tutto senza che nessuno ti vede te lo volevo dire si prende una spugnetta dopo aver applicato del fondotinta qua si prende quella spugnetta e si va a mettere sui capelli preciso che l'ho messo sul serio la pronospira diceva sempre che niente il mio prof d'incenzo ma quello di fisica della luce è andato in pensione mai? ma chi? quello orrendo come sta? il quello che è che dava i 3 e i 2 i 3 e i 2 e 1 quello che mi aveva detto che i liborchi erano illegali scusate piccola parentesi della nostra vita che te vogliamo abbiamo fatto tutti e due liti e rappichiamo molto bene anche e soprattutto si vede zoom zoom manuale andando qua sotto dove c'erano i brufoli per intenderse no? non volevo essere così cattiva poi prendiamo la base questa qua della benefit che avevo già detto ora avevo già fatto un video solo ho detto che ne avrei l'avrei stesata però non lo sapevi se ti faceva nascere i brufoli o meno non fa nascere tanti i brufoli ma anche perché non la uso tutti i giorni e copre davvero sul serio i pori dilatati e i punti neri vari e i brufoli e i bruboli sempre i nostri brufoli prendiamo la solita spugnetta sporca di fondotinta non perché gli voglio male ma perché così si ricolora anche questo e giù ora zoomati non so se si nota la differenza tra dove glielo ho messo e dove non glielo ho messo come quella un po' si dai la pelle è più uniformata da questa parte lo dice lei dico io mezzi trotterello di qua oggi la già mi oggi la già mi è pazza la già mi galoppa mi sento tanto huivush quando è stato causato da clio la zona t zona t E ora andiamo a mettere l'illuminante Che uso questo qui della Essence Sun Club Era sparita Uso più che altro il bianco e il marrone che è sotto E visto che l'abbiamo molto allungato Andiamo a metterlo su in alto sulla fronte Senza il libro davanti me l'ha fatto pare sta stronza Oh, sugli zigomi Portando qua verso l'esterno Dall'altra parte no perché è bello la simmetria Ma scherzo E anche dall'altra parte Non ci sarei detto che a te ti piaceva tanto la film Quello di Halloween E a riservo studiato Preparata la ragazza Nonostante avessi i tutorial Si ho aperto come cambia Ciao mamma Ciao mamma Ciao Roberta E poi ora mettiamo La terra Pennello che la Serena adora tanto No Kamuki La terra questa qua Che non è sempre quella di cui non rimembro la marca Che è anche un po' sbrucciolaica Che è anche un po' sbrucciolaica Alla Serena non gli piacciono i pennelli grossi Ma passiamo Tanto per dare un po' di colore Anche qua sotto mi raccomando un modello fa vedere lo stacco viso collo Viso degli Hawaii collo dell'Alaska Quindi questa qui è la base Per un viso allungato E ora andremo a fare un tutorial A parte A parte sul trucco Anche perché in un parto della tenda non c'entra Ci sono ci sono A dopo Ciao 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 Grazie.